Oggi farò una pasta che solitamente faccio di venerdì perché noi in Sardegna il venerdì mangiamo pesce a pranzo. Oggi farò gli spaghetti alle cozze con pomodorini. Gli ingredienti sono abbiamo le cozze che abbiamo già pulito e tolto dalla barbetta, pomodorini già tagliati, peperoncino, prezzemolo, uno spicchio d'aglio e un goccio di vino bianco secco. Andiamo con la preparazione. Come prima cosa ci cuciniamo le cozze. Prendiamo una pentola, mettiamo le nostre cozze. Mettiamo un goccio d'acqua. Chiudiamo e accendiamo il fuoco. Abbiamo anche il nostro goccio di vino e attendiamo che si aprono. Nell'altra padella mettiamo un filo d'olio, l'aglio in camicia, accendiamo il fuoco, ci mettiamo i pomodorini e portiamo a cottura. Le cozze sono pronte. Adesso queste le prendiamo e le sgusciamo. Ovviamente i pomodorini stanno cucinando. Hanno un profumo dolce. Abbassiamo il fuoco dei pomodorini e ci sgusciamo le cozze. Ci lasciamo due o tre cosze per la decorazione, le più belle. Ecco, ci siamo sgusciate tutte le cozze. Adesso prendiamo un colino e mettiamo un po' di rodo delle cozze insieme ai pomodorini. Un altro qua per tenere le calde. Mettiamo un po' di peperoncino e un pizzico di prezzemolo. L'acqua bolle. Mettiamo un po' di sale. Mettiamo una quantità inferiore di sale perché le cose hanno la loro sapidità. Mettiamo la nostra pasta. Bene, abbiamo buttato la pasta. Allora, siccome la pasta ha 10 minuti di cottura e 5 minuti, noi spegniamo il fuoco. La mettiamo in panella. Vedete? È ancora bella rigida. Cosa faremo? Risolteremo la pasta in panella. Mettiamo qua. Mettiamo un goccio di acqua della pasta. Un mestolo. E la facciamo andare. Quando abbiamo 3 minuti di cottura della pasta, mettiamo le cozze. Ci spostiamo la pentola su un fuoco più alto. Aggiungiamo un altro goccio di acqua. E risoltiamo la pasta. Ecco, la nostra pasta è quasi cotta. Quindi cosa facciamo? Adesso mettiamo le cozze. guardate qua, è uno spettacolo. assaggiamo. Assaggiamo. Misureto. Signori, una bontà. Ok. Sentite. Si sente? Sì. Ok, la nostra pasta è pronta. Adesso rendiamo l'impiato a bento. Eccoci qua. c'è un profumo incredibile. ok, finalmente. Prendiamo! Decoriamo con le nostre cosse, un po' di presemo, e un filo d'olio. Ecco qua signori, spaghetti con cosse e pomodorini. Eccoci qua la degustazione. Il momento è che mi piace di più del video, sinceramente. Guardate qua. E' un piatto squisito perché si sente il mare dato dalle cosse. Buonissimo! Fatelo! Io lo accompagnerò, perché sono sardo, con un bicchiere di vermentino. Giocantino, vermentino di gallura. Squisito! Se vi piace il video mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche dei nuovi video che metterò. Ciao! Al prossimo video! Ciao!